Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Ti toglierai l'elmo e mi dirai il tuo nome. Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Comandante dell'esercito del Nord. Generale delle Legioni Felix. Servo leale dell'unico vero imperatore, Marco Aurelio. Padre di un figlio assassinato. Marito di una moglie uccisa. E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra. Ritiri ton casco e mi dire comment tu te nomi. Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Comandante dell'esercito del Nord. Generale delle Legioni Felix. Fidere servito del vero Empereur Marco Aurelio. Père di un figlio assassinato. Espù di una figlia assassinata. E io avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra. E io avrò la mia vendetta in questa vita o nell'esercito del Nord. E io mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Comandante dell'esercito dell'esercito del Nord. Generale delle Legioni Felix. L'esercito servito al vero Empereur Marco Aurelius. Padre a un figlio assassinato. Su figlio a una figlia assassinata. E io avrò la mia vendetta in questa vita o in questa vita. Te quitaràs il casco e mi diràs tu nomi. Mi nomi è Massimo Decimo Meridio. Comandante dell'esercito del Nord. General delle Legioni Felix. Leal sirviente del unico emperador Marco Aurelio. Padre di un figlio assassinato. Esposo di una figlia assassinata. E io avrò la mia vendetta in questa vita o in la altra. Voi prendere il senso e mi dirai il nome. E io avrò la mia vendetta in questa vita. Min nome è Maximus Decimus Meridius. Comandante dell'esercito del Nord. Tribune dell'esercito della Spanica. Treue di un servizio di imperatore Marco Aurelius. Voi amore dei figli assassinati. E un figli assassinato di un figli assassinato. E io avrò la mia vendetta. E io avrò la mia vendetta in questa vita o in questo modo. Grazie a tutti. Aurelio, padre di un figo asesinato, marido di una mogra asesinata, e avrei una venganza in questa vita o in la altra. Tire il capace e mi dica il suo nome. Il mio nome è Massimus Décimos Meridius, comandante dei exercii del Norte, general della legione Félix, servo leal del verdadeiro imperatore Marcos Aurelius, pai di un figlio assassinato, marido di una esposa assassinata, e avrei una venganza in questa vita o in la prossima. Grazie.